Siamo con il consigliere regionale d'Italia dei Valori, Camillo Sulpizio, che ha presentato un progetto di legge per l'istituzione del registro regionale dei tumori. Sì, noi già da gennaio 2011 abbiamo presentato un progetto di legge come gruppo consigliare dell'Italia dei Valori, proprio perché ci teniamo in modo particolare alla prevenzione e quindi era mirata proprio a questa cosa, purtroppo è ancora fermo probabilmente in commissione, quindi non sappiamo come è andata a finire. Dopodiché a gennaio del 2012, dopo un anno, ho presentato un'interrogazione urgente proprio per sapere come stanno le cose, cioè a che punto si trova l'istituzione di questo registro e non mi è stata data risposta e ancora oggi non c'è neanche l'ombra di questo registro, che è una carenza enorme tenendo conto che soltanto 5 regioni in Italia sono ancora sprovviste. Oltre all'Abruzzo c'è il Molise, la Puglia, Basilicata e Calabria. Tutte le altre regioni sono munite di questo registro, che ripeto è importantissimo per la prevenzione di questi tumori. Nel senso che quando abbiamo dei siti soprattutto particolarmente inguinati e sono monitorati tutte le situazioni singole, abbiamo la possibilità di vedere se in una determinata zona, in un determinato sito, i cittadini che numericamente sono più esposti a questa malattia, abbiamo la possibilità di saperlo, di saperlo prima e quindi di agire di conseguenza.